Da Kiev all'Aquila, più di 20 tra giovani atleti e distruttori dell'FC Dinamo Kiev e Orion sono arrivati ieri all'Aquila, altri ne arriveranno a breve, grazie all'intermediazione di Pino Masci, Svetlano Stapenko e Boris Rabotnikov, che è un allenatore che si è rivolto a loro e ad un lavoro durato più di due mesi e culminato con il sì della Prefettura per il loro soggiorno sul territorio nazionale, finalmente la città può offrire un rifugio sicuro e la possibilità di continuare ad inseguire sogni e palloni ad una trentina di giovani promesse del glorioso club ucraino. È stata veramente una cosa immensa, io mi commuovo spessissimo, tra l'altro l'altro giorno quando mi hanno detto che alle 7 di mattina sono scesi in campo a piedi nudi a giocare, questa è stata una cosa che mi ha fatto piangere, giuro. Devo dire che la solidarietà che ho riscontrato qui, in primis con l'Aquila Calcio, perché ho riscontrato un ambiente diverso, il mondo del calcio non è il mio mondo, però lo conosco abbastanza bene, ma quello che ho trovato qua dentro è stato impagabile, e io gli auguro a loro veramente un grandissimo successo. Ovviamente il Comune subito ha dato la sua adesione, la Prefettura con qualche difficoltà burocratica legata anche al fatto che ci sono dei minorenni non accompagnati, per cui io credo che le difficoltà vanno comunque gestite. Certo abbiamo impiegato forse qualche giorno in più, però alla fine sia la Prefettura che il Comune e che l'Aquila Calcio sono stati veramente meravigliosi. Purtroppo all'ultimo momento è venuto a mancare uno sponsor che doveva pagare il Pullman e i pernottamenti per far arrivare qui i ragazzi da Kiev, è venuto a mancare, si è tirato indietro e devo dire che nel giro di poche ore io e Svetlana siamo riusciti con i nostri amici a trovare gran parte del danaro per farli arrivare qui. Sono stati coinvolti tante tante persone, a parte che italiani, anche ucraini, quelli che sono rifugiati anche in altri paesi quindi è successo un miracolo per due giorni quando abbiamo raccolto i soldi, più di 6.000 euro non è facile. Per i ragazzi l'Aquila 1927 e l'Academy l'Aquila Calcio hanno messo a disposizione lo stadio Gran Sasso, le altre strutture sportive, il materiale sportivo, i pulmini per i loro spostamenti e il supporto di tecnici e personale di segreteria dimostrando ancora una volta il grande cuore e lo spirito di solidarietà che sempre caratterizza la squadra della gente. Sicuramente è stato emozionante stamattina vederli subito all'opera, quindi noi siamo stati felicissimi di ospitarli. Già in questo periodo abbiamo ospitato dei ragazzi ucraini nelle diverse strutture che abbiamo e quindi oggi abbiamo proseguito questa opera che è nostra, la sensibilizzazione e quindi anche l'accoglienza. Siamo stati accolti come a casa e quindi ci vuole un po' di tempo per adattarsi, speriamo bene, però noi sentiamo benissimo qui.